2. Civil Week 2024, Legnano, Museo Fratelli Cozzi. Siamo qui con la sua ideatrice e fondatrice Elisabetta Cozzi, che ha una storia da raccontarci che desideriamo ascoltare per capire il cammino che ci porta oggi qui alla Civil Week. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, il Museo Fratelli Cozzi è il risultato della passione di un uomo, mio padre, che dal 1955, quando ha fondato l'azienda Fratelli Cozzi ha deciso di raccogliere queste meravigliose automobili. Quindi sono innanzitutto la storia del saper fare italiano, della bellezza, del design, della società, della politica, insomma, certo la storia dell'auto, ma anche tutto il resto. Il Museo nasce nel 2015 e nasce proprio per celebrare questa passione e condividerla, perché la collezione esisteva appunto già da molto tempo. Il 2015 è l'anno in cui si apre al pubblico e dal 2018 il Museo diventa anche proprio la mia azienda. Come imprenditrice decido di creare un museo, proprio un museo vero e proprio, in cui c'è questa collezione di auto e anche un grande archivio con una importante dotazione documentale, e decido che in questa impresa possano entrare anche i miei valori, come imprenditrice e come donna, in particolare valori legati all'empowerment femminile, su cui era già qualche anno comunque che stavo lavorando. E che cosa c'entra quindi la parte sociale? Perché poi ad un certo punto decidi di mettere tutti questi valori in pratiche a servizio del bene comune. Esatto. Allora, innanzitutto il Museo diventa la Casa delle Women in Power, che è un movimento che ho fondato nel 2008, che coinvolge centinaia di donne, proprio con l'obiettivo dell'empowerment femminile. E poi, accanto al museo, fonda un'associazione che si chiama Friends, o Museo Fratelli Cozzi, che è proprio il contenitore di tutti quegli aspetti di carattere sociale e culturale su cui noi siamo impegnati. Che cosa fa l'associazione? Beh, da una parte divulga proprio la cultura di questo museo, anche attraverso, diciamo, la ricezione di tantissime scuole di vario livello e del territorio, anche no, vengono anche scuole dall'estero a visitarlo. E in realtà qua i ragazzi poi che cosa possono vedere? Possono vedere, certo, meravigliose automobili, ma possono vedere la storia del nostro paese. In fondo, se ci pensate, ogni auto definisce un'epoca, definisce un contesto sociale, un contesto di design, un contesto politico. Quindi è proprio un percorso che gli avvicina alla storia d'Italia, quel tipo di storia che il mondo ci invidia, perché è la storia della bellezza del saper fare italiano. Quindi anche questa consapevolezza per i ragazzi di quante cose belle gli italiani fanno è fondamentale. E poi dal punto di vista sociale oggi ci sono proprio due temi importantissimi su cui noi stiamo lavorando. Uno è proprio quello che partecipa alla Civil Week, che è questa mostra fotografica itinerante, che nasce proprio dal rispetto che vogliamo che ci sia maggiormente verso il mondo femminile, in particolare quando lo si abbina al mondo delle auto. Facciamo degli esempi, i modi di dire donne motori, gioie e dolori, donne al volante, pericolo costante, guidi come una donna, parcheggi come una donna, senza considerare quanta vulgarità c'è. C'era tantissimo, meno, ma c'è ancora nel legare l'immagine femminile a quella dell'auto. Io dico sempre, google immagini, scrivete donne motori e poi vedete di che cosa sto parlando. Allora, qual è l'idea di questo progetto fotografico? Innanzitutto di scardinare anche i modi di dire, il suo titolo è donne motori, gioie e basta. Partiamo da lì. E la seconda cosa è di rappresentare le donne vicino alle auto, a bordo delle auto, in maniera elegante, rispettosa e per dimostrare quello che le donne, diciamo, anche sanno fare. Selezioniamo donne che appartengono a molti mondi, dalla politica all'economia, ci sono giornaliste, ci sono libere professioniste, ci sono sportive, ci sono donne dello spettacolo, cioè di tanti mondi, le direttrici dei musei. Quindi sostanzialmente il progetto porta alla luce due cose, la bellezza e il rispetto verso il mondo femminile, proprio per contrastare quello che ancora oggi purtroppo in questo senso c'è, e più anche la dimostrazione del fatto che le donne possono fare qualsiasi cosa. Quindi la Civil Week oggi, in questi giorni, la mostra è in due posti a Legnano, a Palazzo Malinverni, che è la sede del comune, e all'anagrafe. La mostra è itinerante, stampata su questi pannelli molto leggeri, perché il suo obiettivo non è stare in un posto e qualcuno la vede, il suo obiettivo è divulgare il messaggio. La portiamo nelle scuole, nelle biblioteche, nelle istituzioni. L'anagrafe, voi l'avete visto, non è unice, ma uno fa una mostra fotografica, ma è quello che interessa che sia vista. E quindi lì va tanta gente. E poi comunque andrà a Palazzo della Regione Lombardia, andrà al Pirellone, andrà alla sede della C Milano, andrà a Torino in un'istituzione, gira, andrà a Verona a una fiera. Girare vuol dire proprio divulgare questo messaggio, quindi insomma è fondamentale questo. La Civil Week è per noi una grandissima opportunità per farlo, quindi per questo vi ringrazio. Grazie a te Elisabetta, grazie davvero, buon lavoro e buona Civil Week.